Sono ancora in corso i lavori in alcuni tratti del litorale toscano devastato lo scorso ottobre dalle mareggiate che hanno colpito la costa da Massa a Capalbio e il presidente della regione toscana Enrico Rossi nel suo tour per seguire i lavori ha toccato anche il Grossetano fermandosi ad Albinia, in zona Camporegio, nel comune di Orbetello. Qui ha detto, oltre all'impegno della regione, che ha stanziato per l'intero progetto 14 milioni di euro che ha coinvolto comuni e geni civili, è stata fondamentale la solidarietà tra gli stabilimenti balneari. Dove la spiaggia non si è riuscita a ricostruirla, a quei pochi casi, è evidente che c'è chi legittimamente si lamenta ed è bello anche questo caso qui, a Orbetello, dove sono gli stessi balneari che hanno concordato dove partire prima e hanno deciso di partire da quelle zone che avrebbero dovuto saltare la stagione perché erano totalmente prive di spiagge. Oltre a quelli di Orbetello, sono ancora in corso i lavori a Scarlino e a Capalbio, mentre sono in fase di avvio quelli in località Ronchi e Poveromo a Massa, a San Vincenzo, in località Giannella e Feniglia, sempre a Orbetello e all'Isola d'Elba. A settembre, a poi detto Rossi, sarà presentato un piano di interventi strutturali, partendo dai 9 milioni di euro disponibili per mitigare gli effetti dell'erosione della costa.